Michele Arcangelo Pezza, colonnello dell'esercito napoletano ma tutti quanti mi conoscono come fratello è arrivata l'ora mia, è venuto a essere francese e mi hanno detto se è finito fratello, dommaggio sarei a dire che è finita fratello, mi dispiace che mi dispiace, non ci credo proprio per niente che tutto quello che mi sono fatto passare sette anni fa 1799 e ci sono provato pure stavolta ma stavolta non è vita buona come l'altra volta stavolta hanno venciutissimo e ora ce la fanno scontata ma spetta di trabucca a me non è che mi dispiace tanto oddio, mi dispiace di morirmi però lo sai chi fa la guerra prima o poi si muore si può morire ogni secondo mi poteva morire sette anni fa mi ha scoppiato come tanti compagni miei pure stavolta mi poteva accorgere una cannula da sore una cannula da Tina mi ha scoppiato mi ha scoppiato mi ha scoppiato e mi ha scoppiato e mi ha scoppiato mi ha scoppiato ma spetta di trabucca ma quello che mi dà fastidio di chiudere è tutto il giro che ci sta attorno adesso è venuto stamattina due prete lo fanno un buon mestiere questo da compagnia come un dannato a morte si che ce ne frega loro lo so fra diavolo lo so si franceschi per loro è la stessa cosa io sono provato pure a ampecciargli pochi capi con le ghiacchie ma mi sa che non ce ne capite niente stanno occhi vabbè comunque mi sono confessato mi sono fatto la comunione mi hanno fatto vedere pure la moglie ma i due figli piccoli per loro non ci chiedono di spiace però lo so sicuro che chi ci stanno sempre se ti hanno campato campano o con me o senza di me poco mi hanno accompagnato ad andare a chiesa mi hanno sentito la messa ma che pure stavano deprede e parlare due parole ma che poteva dire purissimo ci stanno le cose e quando siamo usciti fuori tutta la gente chi applaudeva chi voleva toccare chi cosa tutto fra diavolo a me tutte queste ghiacchie non è che mi piacciono tanto o facciate i fatti o lasciate aperte adesso non lo so se vedete già i tre bucchi e ora si comincia a sentire qualcosa si sente pure che è scoppettata perché non ha saputo cosa io mi stavo a morire ma passano forse duecent'anni forse pure di più i nomi miei ancora si ricordano perché questa gente che è la gente mia ogni giorno si deve ricordare chi è deve sapere chi è e quando arriva il momento che deve sapere chi è deve sapere che è la gente che nel 1799 è cacciato e cacciato gli eserciti più potenti della terra solo che la forza se e sapendo che questo ne può fregare nessuno ricordatevi sempre voi vi dovete ricordare fra diavolo e vi dovete ricordare il 1799 perché chi vi fa scordare il 1799 sta sicuro che non vi va bene grazie